Il rapporto tra la scultura e il mosaico, la nascita e l'evoluzione del concetto di tessera nelle sue differenti declinazioni, sono gli elementi al centro della mostra Montezuma Fontana Mirco, la scultura in mosaico dalle origini ad oggi, esposta al mar dal 7 ottobre al 7 gennaio 2018. Nell'ambito della quinta edizione di Ravenna Mosaico, rassegna pienale di mosaico contemporaneo, i due curatori della mostra, Alfonso Panzetta e Daniele Torcellini, hanno sondato e documentato la nascita e l'evoluzione del linguaggio musivo, a partire dagli anni 30 e del 900 fino ad arrivare all'arte dei nostri giorni, dove il concetto di mosaico viene espresso attraverso i materiali più impensabili o vere e proprie sperimentazioni. La mostra è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa alla presenza del sindaco Michele De Pascale, dell'assessora Elsa Signorino, del presidente del MAR Vittorio Pranzini, del direttore del MAR Maurizio Tarantino e dei due curatori. L'esposizione sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 18. L'idea alla base era capire quando è nata e perché la scultura è mosaico, perché è un'arte giovane, in realtà è un'arte che, abbiamo capito, nasce alla fine degli anni 30 e quindi possiamo dire che è un'arte talmente giovane che ha circa 80 anni, quindi è veramente in divenire. Abbiamo avuto l'opportunità quindi di documentarne il cortocircuito iniziale dalle opere mosaicate di Azteche, che furono l'elemento scatenante sia per Fontana che per Mirko, ordinario, e partendo da lì documentare l'esagerato vortice creativo che si è innestato con la transavanguardia, con il designer, dove Ravenna è sempre stata centrale in questo dibattito. E poi, andando avanti, tutte le ricerche eccentriche alla transavanguardia, ma pertinenti alla transavanguardia, penso ai mosaici di Trotta, che non erano mai più stati visti dalla Biennale di Venezia del 90, penso ai Renda dell'85, quindi cose mai vi eravvenne, fino alle declinazioni metamorfiche della tessera, ma lì entriamo veramente in un concetto che non è più mosaico, diventa un pretexto, ma è arte contemporanea tutta. Senta, per lei cosa rappresenta questa mostra? Allora, per me, io che amo Ravenna, da vent'anni che frequento i Ravennati, e sono a Ravenna in silenzio, a vedere gli studi, per me è una grande opportunità, l'opportunità di fare un omaggio a una città che io adoro, adoro per le potenzialità che ha, per la storia che ha, un omaggio alla sua identità, ma, come dire, la mostra è anche una sollecitazione a Ravenna che si renda conto delle potenzialità che ha nel contemporaneo, che sono parallele alla grande identità della storia. Quando riguarda l'arte più contemporanea, più attuale, cosa si potrà vedere? Dunque, molte proposte interessanti, di diversa natura, di diverso profilo, entro un perimetro che abbiamo circoscritto proprio dall'aggettivo musivo, intendendo quelle ricerche dove la tecnica tradizionale del mosaico, quella consolidata e consegnata dalla storia, che vede l'utilizzo di certi materiali su certi supporti, secondo uno specifico tecnico molto definito, si muta, si trasforma, si ibrida, si apre a contaminazioni con tutte quelle ricerche dell'arte contemporanea, che dall'assemblaggio in poi, dall'inizio del Novecento in poi, hanno introdotto materiali extraartistici, oggetti, oggetti di recupero, in un'estetica del frammento e della ricomposizione, entro cui la tessera diventa cannuccia di plastica, diventa unghia finta, però nell'idea di costruire un'opera attraverso un processo di addizione di elementi. Ma non solo, perché poi le nuove generazioni utilizzano anche la tecnica più tradizionale. E quindi quello che possiamo vedere, soprattutto nell'ultimo piano di mostra, che è il primo piano, il piano terra del mar, possiamo vedere confrontate ricerche con materiali extraartistici e non convenzionali accanto a ricerche che ancora utilizzano marmi, vetri, smalti e tessere tradizionali a confronto.